Il punto si farà, però è chiaro che a determinare anche questo obiettivo poi sarà il nostro di partenza, in virtù di quello che è il nostro di partenza e dell'organico. Credo che se già dall'inizio ci siamo prefissati un pochino a questo obiettivo, credo che quantomeno bisognerà mantenerlo, però poi è sempre l'evoluzione del mercato che ti permette eventualmente di guardare un attimino più in alto senza creare delle false illusioni. Sicuramente quello che questo gruppo farà e metterà a disposizione è il grande impegno, il grande spirito di sacrificio, la coesione di gruppo, cercando di fare settimana dopo settimana il meglio e di migliorarsi. Una volta che si migliorano i singoli calciatori a contempo diventa migliore anche la squadra e quindi gli obiettivi poi si possono guardare con un occhiorino in più.